Grazie Maria, per passare dei giorni ci avveniamo sempre, ci avviciniamo sempre più al grande avvenimento della vita della mamma nostra. Ebbene, cerchiamo intimità, specialmente la carità per i poveri defunti. Ed è proprio questa, oggi e domani, la giornata che possiamo praticare più che mai questa virtù, insofragata di anima dei nostri, dei defunti. Ricordiamoci, comunque ben sapete, che ogni abitazione che facciamo nella Chiesa Francescana, se siamo ben disposti, possiamo salvare un'anima dal purgatorio. Quindi, già che è stata andata a cuore questa devoluzione alla mamma nostra celeste, ebbene, disponiamoci a soffragare queste anima, a prendere molta indulgenza. E così, piaceremo la mamma nostra celeste, e sarà tutto un bandaggio per noi. Perché, anche noi un giorno, quando saremo nel purgatorio, la Madonna stessa, per ora dà altri anni, per venirci in aiuto. Siamo dunque caritatevoli, con gli altri, che la Vergine Santissima muoverà anche le altre anime, quando non vengeremo più in questa vita, a venirci in aiuto. C'è anche il nostro interesse. Grazie. Grazie.